ecco subito qua in un'altra partita che guarda caso inizia subito dove si era interrotta quell'altra guarda secondo me sembra quasi che sembra quasi che abbiamo fatto in contemporanea ma in realtà non è così sono passati ben due secondi cazzo dai ammettiamo che più cazzo questa è la risa del prezzo diciamo che l'attacco diciamo che questo è il gioco per esempio sotto le due cose 2 4 4 di granata per di granata per di granata per di granata per di granata asci guarda quanti non ci si guarda quanti non ci si non ci si 5 3 ci si deve per guardare csi 3 il terzo sete a con te conto come te mi interessa sono praticamente suscitato si ma più che altro ammettere che questa questa cosa qui siccome e per una volta che ne abbiamo vinte due di fila cioè ne abbiamo vinte due ora bisogna perdere c'è vedere che stiamo dicendo per per quale motel questo nostro curo non durerà per sempre quindi adesso gioceremo finché non la perdiamo chiesa prasso finché non è pronto solo che cambia l'ora perché ci sono qualunque la nostra stessa mappa io l'ho scelto io l'ho scelto io l'ho scelto io mi metto a ballare perchè se balli sale più velocemente ma pure quell'altro sta ballando e ti uccide tutti io l'ho scelto io l'ho scelto io l'ho scelto io l'ho scelto ma perchè io l'ho scelto piscina perchè se piccoli e nero vero sono piccolo e sono nero quello mi ha disottato non so come brutto ok tutta la evidentemente c'è vista evidentemente momenti da ora se evidentemente evidentemente visto siamo perciò dopo aver fatti i pezzi nei partiti prime adesso stiamo stanno andando aiuto paura che qualcuno sia venendo da me contro si buono chi era se parli secondo me scende più velocemente no non ne sarei così sicuro per la serie me ne fotto no uu io gli ho staccato il braccio mi ha fatto salta la testa giusto spedio no e io prendo A ma che no era già tutta nostra praticamente ero io quello là che è morto che è morto lì ero io vado lì no ma che cazzo mi si è bloccato per mentre sto facendo tipo la combo tipo la macerata dall'alto la macerata che poi non ce l'ho ma perchè mi spara da solo sto stronzo perchè è uno stronzo no hanno ripreso A non posso permetterglielo lo sai che se salti subito dopo la capriola fai un salto altissimo vediamo un fumo no uguale no non lo sai più vale fatto malissimo allora il salto no vabbè oddio mi stanno sparando chitri 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 voglio avere voglio avere la seconda vedi che salti più in alto dai come fa a dire che non è vero uh beccato perchè mi spari a me no attenzione ci sta il cecchino no ci sta il cecchino che è una bestia aciso senza testa guardami guarda riguarda lì lo vedo lo vedo al pubblico bello guarda mi inquadrami che il pubblico conosca il malattattamente subito se ti sei fermo magari riesce anche a vederti bene per il tuo tempo ma totale subito da ferrofarsi in questo video no 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 tutti giù per terra io non arriverò mai prima in queste partite perchè sono veramente scarsa a questo gioco ma ovviamente si è scarsa a tutti i giochi hai ragione mettiamolo io sono siamo due scarsoni no innanzitutto chi è che ha vinto innanzitutto la scorsa volta erano i miei tre primi cioè perlomeno ieri terzo ma siamo in quattro in questo gioco di me e adesso sono primo perchè sono il più forte nooo sono stato ucciso dopo uno scontro all'ultimo sangue con John Galletta John Galletta è pericolosissimo lo sai no loro non avranno non avranno la vittoria nooo nooo non possono ma che con cazzo sto sparando basta subito meglio non dare punti all'avversario no stanno prendendo b presto resuscita resuscita uh headshot 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 e invece sto prendendo A balliamocela copione no mi hanno ucciso mentre stavo ballando controllo il vostro team domini a c dov'è c dov'è c c ho la sensazione che qualcuno mi troverà alle spalle o alle palle guarda, è una sensazione non troppo remota perché ce n'hai due, tre, due dietro no, perché sta sparando là, quello? non c'era nessuno evidentemente nemici guarda, guarda che salto, pippa perché ho cambiato direzione io li prendo alle spalle, no? no, io invece li prendo di petto no, dai, ma chi ha lanciato sta granata de' merda? cosa? giustizia io me la ballo io sono morto che pippa che sei una pippa è vero oh, non puoi capire, c'è una vera a sto gioco pazzesca, cioè prima di morire riesco a togliere almeno metà vita all'avversario guarda De' Fear come viene aiutato da Ferromos visto che ora come c'è crevato io sto perdendo sangue ma trova trova delle siringhe che gli ridanno un po' di vita ci ha fatto caso che quando prendi la vita ti si conficcano addosso delle ferite sai com'è? delle siringhe è strano non notarle, sai com'è? beh, non so come sapere oh, ciao Ferromerda ciao, io me la ballo ciao 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 perché eravamo pure i vicini uh, è diventato incredibile Hulk questa volta ma che sta sparando questo? tipo delle cose ok, buono sto perdendo sangue dalla gamba io do il mare non mi arrendo non sarà certo un po' di sangue gambo soffermarmi oh merda ho visto un missile arrivare sono riuscite a evitarlo no 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 mi sono bloccato come si accoltella qui ma non si accoltella sono morto mi sono ragazzi però grazie a me abbiamo vinto la gara non credo ma veramente no chi è che balla davanti sono io oh oh no io sono sempre terzo è perché sei una pippa perché sono una pippa è vero però guarda non ho una gamba perché vuol dire vuoi fare come Garibaldi no? che fu ferito una gamba Garibaldi fu ferito fu ferito ad una gamba non stai registrando però Garibaldi che comanda che comanda il battaglio non stai registrando vero? si certo che si un cacermann sta scrivendo un cacermann sta scrivendo un cacermann sta scrivendo dai rega vabbè basta anche questa partita è andata grazie a tutti